Il desiderio di Jessica Notaro si è infine esaudito, quello di farsi vedere dal suo ex compagno Edson Tavares per mostrargli come l'acido gli ha modificato per sempre i tratti del volto. Per la prima volta da dopo l'aggressione avvenuta il 10 gennaio, alle ore 9 di giovedì i due giovani si sono incontrati in un'aula del Tribunale di Rimini per il processo riguardo agli episodi di stalking di cui è accusato il 29enne capoverdiano. Appena seduti sui banchi, l'imputato proveniente dal carcere di Forlì ha mantenuto gli occhi fissi sul giudice senza mai voltarsi una volta verso la vittima, mentre Jessica lo ha guardato con insistenza cercando di strappargli almeno un'occhiata. Gli occhi della 28enne gridavano guarda cosa mi hai fatto. Dopo pochi minuti dall'inizio la seduta è stata sospesa in seguito alla richiesta della difesa di procedere a porte chiuse, fuori fotografi e telecamere presenti media locali e nazionali. Più tardi il giudice ha consentito la riapertura del processo, ma Jessica è stata costretta ad abbandonare la sala dopo aver avvertito un lieve malore. Troppe le emozioni che deve aver provato stando chiusa nella stessa stanza con l'uomo che da quella maledetta notte considera il suo carnefice.